ciao ragazzi oggi siamo tornati sul minecraft tarocco penso proprio tarocchissimo e se vedete che non c'è i cuori è perché sono in creativa giustamente come potete anche vedere che c'ho spade in nederite ossa scudo non lo vedete voi però c'è anche l'armatura in nederite e ho detto io ma perché devo portare una vanilla su minecraft tarocco in cui i materiali non si trovano se io ho scavato intere ore e non ho trovato solo carbone nemmeno il ferro quindi ho detto qua secondo me costruire è impossibile quindi perché non iniziare una vanilla in creative ditemi se la mia idea vi piace ovviamente raga tanto finalmente sta per sorgere il sole ovviamente ragazzi penso che lo porterò in live così posso costruire e c'ho il tempo per costruire che 20 minuti di video penso che non mi bastino che vabbè spero che la vanilla vi piaccia comunque non è che io sono entrato faccio il video proprio così senza niente come avrete visto in un'inquadratura qua ci sono delle guida rose io le ho usate per proteggermi mentre costruivo la mia casa eccola qua ditemi se vi piace ovviamente datemi un voto se sono all'altezza degli standard di oggi di minecraft secondo me è molto carina questa qua è l'entrata principale ovviamente con le guardie perché in questo mondo io sono il re non voglio dire imperatore perché non voglio rubare il titolo a kendall ok ragazzi quindi ovviamente questa qua è solamente il primo episodio ma ovviamente poi porterò veramente gli episodi in live spero che la serie veramente vi piaccia questa è la mia nuova casa ci sono le guardie with the skeleton poi ho fatto qua il cuoco dalla mia casa piccola piccola e poi andando un poco avanti ho fatto pure un fiume si un fiume un laghetto una pozza dove ci ho messo diversi pesci e dove ci ho messo anche dei bellissimi pescatori ragazzi comunque nelle live che possiamo fare penso che andrei a sconfiggere il drago andrei a vedere il nether andiamo a esplorare vediamo le fortezze le costruiamo soprattutto quindi ragazzi già in questo episodio sotto nei commenti ovviamente questo non è un episodio solamente una intro per entrare in questa serie sperando che duri scrivetemi sotto nei commenti chi vuole una casa nella prossima live e lo accontenterò quindi mi raccomando ragazzi lasciate like e iscrizione e campanellina questo mini video per questa serie spero che vi sia piaciuto e al prossimo video di oggi perché ne farò due ciao